Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta e piselli risottata. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 24 minuti. Gli ingredienti sono piselli surgelati, pasta, sale, cipolla, pancetta, olio, dado bimbi, pepe e acqua. Siamo in via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccare l'olio e lo facciamo cuocere per un minuto a 120 gradi. Velocità 1. Adesso uniamo la cipolla e la tritiamo per 7 secondi a velocità 7. Adesso aggiungiamo la pancetta. Continuiamo la cottura per 4 minuti. 100 gradi. Velocità 1. 100 gradi. Adesso mettiamo il sale. Un cucchiaino di double bimbi. un po' di beve. 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 Un po'. Un po' di beve. Un po' di beve. Un po' di beve. Iniziamo l'acqua. Continuiamo la cottura per 10 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere la pasta. La pasta fa cotta in base al tempo di cottura indicato nella confezione, nel nostro caso sono 8 minuti, quindi andiamo a fare 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. La nostra pasta è pronta, andiamo ad impiattare. Pasta e piselli risottata, grazie e alla prossima ricetta. Grazie per la visione!